Nel dopo, nel marketing, queste persone hanno comprato qualcosa da noi, è bene, però sono persone che se hanno comprato da noi e hanno speso più di quanto avrebbero speso altrove, perché amano la propria casa, ma gli possiamo dare dei consigli anche non strettamente correlati a quello che vendiamo noi sulla casa? Io comunque devo continuare a essere presente alla destra di quella persona, quindi magari, che so, c'è un mio collega che fa il pittore, gli creiamo qualcosa sul come abbinare i colori della casa, sul come tinteggiare, c'è il mio collega che fa il giardinaggio, gli abbiniamo qualcosa, qualche contenuto, come crearti il tuo orto in balcone, non so, dico delle cose a caso, per noi siamo presenti, questo vuol dire fidelizzare, questo vuol dire pensare in modo controintuitivo, non è che sono presente per di compra, 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 sono presente perché ti do dei contenuti, ti do delle cose che altrove non troveresti e che ovviamente a te tornano utili, ancora la cara e vecchia è aperta per le ricorrenze, una cartolina per il compleanno, ma che c'è di più bello? Chi lo fa? Nessuno, ma soprattutto generare referenze in modo attivo, perché? Perché ogni cliente deve diventare un nostro venditore, gli eventi, fate gli eventi, funzionano benissimo, trovate un tema, invitate vecchi clienti, invitate potenziali clienti con cui avete trattativi in quel momento, saranno i vostri stessi clienti a vendere ai potenziali clienti, quindi bisogna fare bene il nostro lavoro, è quello che sono sicuro, fate tutti quanti, ma dobbiamo anche istruirlo, cediamogli informazioni, diamogli indicazioni, ho creato questa guida in cui c'è scritto perché l'aggregato compatto non funziona? Dico una cosa a caso? Bene, piuttosto che dare il mio bigliettino da vista, ascolta, te ne lascio cinque, se qualcuno ti chiede che ha bisogno di un impianto di questo, dagli questo, perché? Perché questo qua è scritto per far percepire a chi sta dall'altra parte il valore aggiunto, perché nella media se uno gli dà il bigliettino da vista, sì so che lavorate bene, ma è come quando dicono lavorano bene e costano poco, quello per me è la croce, perché poi avere un potenziale cliente che arriva da te con l'aspetto di spendere poco, quello per me è la croce, è la cosa più deleteria che possono dire una persona, sono bravi e costano poco, è deleterio, spingere l'acqua in salita. Grazie a tutti.